benvenuti su soluzioni pc oggi vedremo come regolare correttamente il volume su windows 11 per regolare il volume su windows 11 dobbiamo andare in basso a destra vicino all'orario e cliccare su questo set di pulsanti una volta cliccato si aprirà una menù a tendina in cui ci sono varie opzioni quella che ci interessa a noi è l'ultima barra in basso quella di regolazione del volume tenendo premuto sul cursore potremo regolare il volume a nostro piacimento se invece volessimo disabilitare completamente l'audio questo tasto all'inizio della barra ci permetterà di mutare completamente il nostro computer da tutti i suoni lo premiamo di nuovo per riattivarlo invece alla fine della barra si trova un altro pulsante per la selezione dell'output audio per output audio si intende la periferica che dovrà riprodurre il suono proveniente da windows nel caso di portatile sono le casse integrate in esso invece qualora avessimo altre fonti di riproduzione audio come per esempio delle cuffie o altoparlanti esterni cliccando su questo pulsante potremmo avere un elenco di tutti i dispositivi che possono riprodurre il nostro audio nel mio caso non ho altri dispositivi che possano riprodurlo quindi avrò una sola voce non cambiabile c'è anche la possibilità di scegliere quale applicazione dovrà avere un volume più alto o un volume più basso mi spiego meglio i suoni vengono riprodotti tutti allo stesso modo allo stesso volume che noi selezioniamo da windows però per esempio possiamo scegliere se alcune alcuni programmi per esempio una pagina youtube o un software di riproduzione musica debbano suonare più forte di altri per fare questo dobbiamo scendere fino a mixer volume cliccare sul tasto con la rotellina e qui apriremo la schermata di mixer volume sotto la voce app avremo tutte le applicazioni che utilizzano l'audio e potremo regolarle a nostro piacimento in modo tale da avere dei suoni più forti dalle applicazioni che ci interessano oppure reimpostare tutto quanto premendo il tasto reimposta spero di esservi stato utile questo era come regolare correttamente l'audio su windows 11 per favore iscrivetevi al canale per avere altre soluzioni pc commentate lasciato un like se vi è piaciuto il video vi saluto e ci vediamo un prossimo video ciao